Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, in verità, in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. E chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Gesù ha portato nel mondo una speranza nuova e lo ha fatto alla maniera del seme. Si è fatto piccolo, 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 come un chicco di grano. Ha lasciato la Sua gloria celeste per venire tra noi. È caduto in terra. Ma non bastava ancora. Per portare frutto, Gesù ha vissuto l'amore fino in fondo, lasciandosi spezzare dalla morte come un seme si lascia spezzare sotto terra. Proprio lì, nel punto estremo del suo abbassamento, che è anche il punto più alto dell'amore, è germogliata la speranza.